Giuditta? Giuditta? Giuditta! Ah, regia! Sei sempre tu! Certo che ultimamente sei sempre davanti al... Davanti? Al mio bar! Al mio bar! Ah! A proposito, Giuditta! Che c'è? Ma sai che cos'è? La claustrofobia! La cla... 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 claustro... claustrofobia... Ma semplice! Certo! La claustrofobia è la paura degli spazi chiusi. Per esempio, tu vai al bar e hai paura che è chiuso. Ma non c'è problema perché c'è sempre il mio bar! Il bar dei commedianti! Il bar dei commedianti che è sempre aperto! Anche per voi, miei cari fans! Il mio bar sarà sempre aperto! Comunque, a proposito, oggi a pranzo mi preparo dei ravioli buonissimi con ricotta, spinaccia e speck. Ne volete un po', miei cari fans? Ce n'è per tutti! Anche per me? No! Per te sono finiti! No! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.